Leandro Greco firmi un contratto con il Sutirol per due anni una scelta importante per te qual è la tua prima impressione? Innanzitutto per me è un piacere essere qui devo dire le impressioni sono ottime perché veramente c'è tanta organizzazione e c'è tutto un centro sportivo bellissimo quindi la prima impressione è molto bella e molto positiva adesso non vedo l'ora di poter iniziare. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato in Biancorosso? Quando sono stato contattato la prima cosa che ho percepito è l'ambizione di questa società di voler migliorare di crescere sotto ogni punto di vista quindi per me è una grande opportunità per mettermi in discussione quindi di poter raggiungere risultati importanti con questa società. 34 anni una carriera importante alle spalle ce la ricordi? Ce la sintetizzi? Non sono uno che si guarda molto indietro e mi piace parlare molto di quello che ho fatto perché sono sempre uno che guarda avanti quindi la carriera è stata discreta per quello che mi riguarda perché poi sono molto rigido con me stesso e adesso sono solamente focalizzato a questa nuova avventura. Quindi le cose più importanti sono quelle che arriveranno? Sempre assolutamente così. Quali sono le tue caratteristiche tecniche? Come ti descrivi? Anche questo faccio fatica a farlo nel senso che mi conosco bene ovviamente non sono un incontrista uno che recupera tantissimi palloni ma ho il faccio regista quindi cerco di impostare il gioco queste un po' sono le mie caratteristiche. Parliamo di allenatori nevuti tanti e importanti quali ti hanno insegnato di più sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano? Ho avuto la fortuna di averne tanti bravi molti importanti che hanno fatto una carriera straordinaria se ne devo dire due. Uno è Luis Enrique che l'ho conosciuto in un periodo importante per la mia carriera, è un momento particolare e l'altro è Giovanni Stroppa che è stato anche qui e alla quale devo tanto. Cosa ti senti di dire come primo messaggio ai nostri sostenitori, a tutti i partner dell'FC Suitero? All'irà delle frasi di rito c'è tanta voglia di lavorare per cercare di fare qualcosa di bello per questa società.